Grazie molte, grazie professor Crudele per l'invito che mi ha rivolto e che ho colto con piacere. Complimenti per questa iniziativa che sicuramente è originale perché un progetto che si chiama governare con i verbi delle virtù non è rara avis, avrebbero detto i latini, non è una cosa comune. Quindi mi congratulo per la vostra inventività e creatività. Detto questo, io entro nel merito con una explicatio terminorum. Voi sapete che nelle antiche università medievali all'inizio di ogni lezione il docente spiegava il significato dei termini che poi avrebbe usato nel corso dell'esposizione. È una tradizione che purtroppo abbiamo perso, perché invece è molto utile. Ebbene, all'inizio di un discorso, quale che esso sia, spiegare il significato dei termini che si usano. E allora la parola che mi è stata attribuita e che rinvia ad una virtù specifica è la prudenza. Nella lingua in greca prudenza è resa col termine fronesis, nella lingua latina con providenzia. Allora, fronesis, se noi andiamo a vedere il dizionario greco-italiano, viene tradotto con saggezza e providenzia, latina, viene tradotto con guardare in avanti. È interessante questo perché le due parole in greco e in latino sottolineano due aspetti su cui poi tornerò fondamentali di questa virtù, e cioè la saggezza e, da un lato, la capacità di guardare avanti. Allora, si può dire che la prudenza è la virtù della convivenza umana. Questo è molto importante. Quando questa virtù viene o declassata o non più praticata, è la convivenza umana prima ancora che il singolo progetto o la singola impresa che viene a risentirne negativamente. E questa è la ragione per cui Sant'Omaso, e questo è importante che si tenga presente al mio modo di vedere, arriva a scrivere che la prudenza è lauriga virtutum, cioè è lauriga di tutte le altre tre virtù. Voi sapete che le quattro virtù cardinali, poi quando arriva il cristianesimo, si aggiungono le tre teologali, ma già gli antichi greci avevano elaborato questo quartetto delle quattro virtù cardinali. E Sant'Omaso non ha esitazione a dire che la prudenza è lauriga. Cosa vuol dire? Fa che guida le altre tre. E questo è molto bello da tenere presente, perché a volte noi scopriamo che, pensate alla temperanza, pensate alla fortezza, e l'altra terza è la giustizia, non vengono attuate perché sono come un carro che ha dei cavalli anche da corsa molto veloci, ma senza lauriga i cavalli non sanno dove andare. Quando si arriva poi alla seconda modernità, a partire sostanzialmente dal 1500, avviene una inversione, e cioè la prudenza viene declassata e non viene più considerata la virtù della condizione umana e soprattutto lauriga che fa marciare le altre virtù, ma viene considerata semplicemente come una caratteristica dell'azione razionale. Tanto che, potete darmene evidenza, è solo in questi ultimissimi tempi che si è tornati a parlare di prudenza. Nel linguaggio comune, chiedo a voi, fino a 10, 15, 20 anni fa, chi parlava di prudenza? Perché? Perché si pensava che la prudenza fosse inclusa nel concetto di razionalità. L'azione, in particolare economica, deve essere razionale. Quindi, se sei razionale, vuol dire che sei anche prudente. E questo è stato un errore gravissimo della seconda modernità, rispetto al quale ovviamente dobbiamo tutti batterci un pochino all'udo ai docenti, agli studiosi, universitari, in particolare alla categoria a cui io stesso appartengo, quella degli economisti, che siamo stati troppo superficiali, perché non abbiamo indagato il significato profondo. Perché, come i greci si ricordano, la prudenza ha a che fare con la saggezza, non con la razionalità. E noi abbiamo persone che sono molto razionali, ma che non sono sagge. Questo è ciò che, dopo vedremo, l'implicazione di questa distinzione a livello, direi, pratico-operativo, per chi si dedica all'attività di impresa o comunque delle organizzazioni di tipo economico e produttivo. E allora, questa è la ragione per cui, se voi mi chiedete, ma perché questo è avvenuto? E beh, lì dovrei aprire un altro discorso, ma brevemente. Tutto questo avviene con l'avvento della prima rivoluzione industriale in terra d'Inghilterra, alla fine del Settecento, e si comincia a capire che per facilitare l'accumulazione di capitale, pensate le macchine di una volta, quanto capitale esigevano, eccetera, eccetera, non bisognasse andare troppo per il sottile con espressioni. Era importante applicare la razionalità strumentale. Se hai un fine, tu devi trovare i mezzi migliori e più efficaci per raggiungere quel fine nella maniera, appunto, più efficace possibile e così via. Poi, quando Bentham, il filosofo Bentham inglese, nel 1789 pubblica la sua opera fondamentale, da cui nasce l'utilitarismo, perché voi sapete che l'utilitarismo è una teoria etica. L'utilitarismo non è una brutta parola, è una teoria etica che nasce in l'ambito, ovviamente, anglosassone, Inghilterra e poi America, e che rappresenta la più grande deviazione dall'etica delle virtù di Ascedenza Aristotelica. E questo aiuta a capire anche non poche delle difficoltà che abbiamo trovato noi italiani, perché la nostra matrice culturale è quella dell'etica delle virtù, soprattutto l'Italia del nostro giorno, sapete la storia, come la cultura greca e latina, prima quella greca che comincia dalla Sicilia, poi quella latina, hanno il loro impianto nelle virtù. L'utilitarismo dice che le virtù non servono a niente. Infatti, se voi prendete i testi di economia, di management, dei vari corsi di management, e ne abbiamo anche in Italia e soprattutto nel mondo anglosassone, voi vedrete che mai, 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 l'ho detto tre volte, si parla di virtù, perché anzi la virtù viene quasi squalificata, eccetera. E allora è evidente che noi oggi siamo alla vigilia di un nuovo commutamento, perché ci si sta rendendo conto che avere, come dire, deviato dalla corrente principale dall'antica Grecia sino al 1600 ed avere intrapreso quest'alte, non ha ottenuto certi risultati che sono indubitabili, ma non ci dà ragione di quello dei problemi che oggi noi ci troviamo ad essere di fronte. Perché questo? Perché la prudenza è quella virtù che fa vedere le cose come sono in realtà, non come noi pensiamo che siano o come altri vogliono farci credere che siano. Questo è molto importante. Chi pratica la prudenza sa che la prima cosa che deve fare è di mettersi in un rapporto, starei per dire, simpatetico e dialogico con la realtà, per escuterla, direbbero i giuristi, per tirar fuori quello che c'è. Cosa che, come noi sappiamo, soprattutto nella stagione dei social non avviene, perché è molto più facile trovare persone che imboniscono, dopo tutto, la figura dell'influenza di cui tutti parlano. Ma sino a vent'anni fa non esisteva neppure la parola influenza, cioè di personaggi che influiscono sulle mappe cognitive e sulle mappe valoriali delle persone, le quali finiscono col credere a quella persona, ma non perché sottopongono ad una qualche ragionamento o verifica di tipo teoretico o empirico, ma perché dice l'ha detto lui, l'ha detto quel personaggio, quindi bisogna credere. Perché? Perché quello che dice il personaggio, in quanto ha ottenuto successo, il successo è garanzia di veridicità, eccetera. La prudenza, inoltre, ci insegna a prioritarizzare i fini. Perché i fini che una persona, così come un'impresa, persegue sono tanti. E allora è la prudenza che ci dice che il fine X viene prima del fine Y e così via. Cos'è accaduto invece? È accaduto che si è cominciato a dire che l'unico fine dell'impresa è la massimizzazione del profitto ad ogni costo. Queste sono le parole che, come voi sapete, sono state usate nel 1962 da Milton Friedman, il fondatore della scuola di Chicago. E che hanno avuto un impatto enorme, perché anche se non si usa il riferimento all'impresa, parlando della gente, dei cittadini, dei consumatori, si dice che il fine è massimizzare l'utilità. Cioè non si può parlare di profitto, se il riferimento è a un consumatore, ma si massimizza l'utilità e così via. E questo, evidentemente, ha determinato una modifica radicale degli schemi di organizzazione del lavoro dentro l'impresa. Perché se io sono un menese, non importa che sia direttore del personale o altro, non importa, occupo posizioni alte e mi dicono che il mio agire deve essere orientato a massimizzare il profitto ad ogni costo, perché questa è la frase in inglese, se prendete il testo di Friedman, c'è scritto at any rate, che in inglese vuol dire ad ogni costo. Non dice che il fine è anche quello di ottenere profitto, è ovvio che l'impresa deve fare profitto, ma un altro conto è massimizzare il profitto ad ogni costo, cioè dire prescindendo da ogni altro fine. A che cosa è dovuto questo? Alla scomparsa della prudenza, perché se si fosse continuati nella vecchia direzione, questo non sarebbe successo. Ed è chiaro che i risultati che oggi noi registriamo sul piano empirico sono in parte la conseguenza di questo svisamento della virtù e della prudenza, addirittura la scomparsa del termine fino a tempi recentissimi e soprattutto le conseguenze che evidentemente tutti noi constatiamo giorno per giorno. A questo riguardo è ovvio che non possa non fare riferimento a quel fenomeno di portata veramente epocale, perché non si era mai visto in passato, che è il fenomeno della great resignation, cioè del grande abbandono. Guardate che questa è una cosa molto più seria. Io mi meraviglio che i dirigenti massimi d'azienda non si pongono a questo problema. Vedrete fra qualche anno come scoppierà il bubone. Voi sapete che i dati del Ministero del Lavoro che sono stati diffusi a fine dicembre scorso, quindi un mese e mezzo fa, parlano di un milione e 600 mila di missioni registrate nell'anno passato. Cioè in Italia un milione e 600 mila persone con in mano un contratto di lavoro a tempo indeterminato e con uno stipendio adeguato rinunciano spontaneamente a lavorare. Allora, sarà pur che qualcuno si chieda come mai. E se andiamo a vedere chi sono questi, questi sono tutti in prevalenza i lavoratori di età giovanile sotto i 35-40 anni e impiegati in aziende soprattutto del nord Italia. Il fenomeno della great resignation colpisce soprattutto le imprese del centro nord e in particolare appunto del nord e così via. In America lo stesso fenomeno ha raggiunto livelli veramente preoccupanti, tanto che come colleghi di Harvard, di Princeton e di altre università con cui sono in contatto mi dicono che abbiamo dovuto cambiare radicalmente i programmi di insegnamento delle nostre business school perché questo fenomeno è inquietante. Perché in America l'anno scorso sei milioni e mezzo di lavoratori, sempre con un contratto di lavoro certo, sicuro, hanno abbandonato. Ed è chiaro che chi abbandona non è la persona che, scusate, in termine pulisce per terra. Sono persone che hanno figure, come dire, di tecnico, di esperto di questo, di comunicazione, di informatica eccetera. Allora un'impresa che si vede abbandonata, l'oggi al domani va bene che ci sono i tre mesi di preavviso, ma cosa sono tre mesi? Capite? Vuol dire mettere in girocchio l'impresa. E mettere in girocchio perché se accadesse che più di uno, se io abito a Bologna come sapete, recentemente è successo un caso che è non è andato sulla stampa nazionale, quindi non lo sapete. Un'impresa è stata messa in ginocchio perché sette dirigenti di quell'impresa hanno abbandonato. E questa evidentemente ha fatto subito una ricerca per sostituirli. Ma voi capite che non è, primo, facile trovare e secondo luogo bisogna sostenere i cosiddetti costi di adattamento alla nuova realtà. Adesso cercherà, stanno cercando di salvarla perché questa è un'azienda vitale. E tutto questo perché? Perché come il rapporto Censis di Derita, dell'ultimo rapporto riferito all'anno scorso, hanno fatto un sondaggio d'opinione e la risposta è stata basicamente questa. Noi non ci rendiamo perché vogliamo più soldi. È vero che perché tutti buttano, soprattutto il sindacato, sullo stipendio, sui soldi. No! Dice ma perché il luogo di lavoro non ci aiuta a sviluppare il nostro potenziale di vita. Non ci aiuta a realizzare quella che Aristotele chiamava eudamonia, parola greca che significa fioritura. È bello, eh? Eudamonia. Perché la persona è come un fiore che vuole sbocciare. Voi ha un fiore in primavera, provate a tenerlo chiuso nel suo bocciolo. Quel fiore soffre, se potesse, come dire, parlare. La stessa cosa succede con le persone. Se ho una persona giovane, relativamente giovane, eccetera, che percepisce che stando lì non è in grado di sviluppare la propria dignità e quindi il proprio potenziale di vita, quella persona appena potrà abbandonerà il servizio. E questo perché oggi questo problema sta inquietando. E come ho già detto, le migliori università americane hanno già cambiato il programma di studi. Io ho da 45 anni che insegno in un'università americana, che è la Johns Hopkins University, che ha sede a Bologna. È un campus dell'università Johns Hopkins per tutta l'Europa. E quindi ho possibilità di seguire direttamente, in tempo reale. E vi assicuro che sono preoccupatissimi. Cioè, una volta la preoccupazione era come fare a ottenere capitale per finanziare quel progetto. Oggi il problema è come ottenere il capitale umano. Cioè, come ottenere le persone che siano in grado di garantire un tasso di innovatività dentro le imprese di un certo tipo. Ecco allora, capite cosa vuol dire avere sottovalutato il ruolo della coltivazione della virtù della prudenza. Perché se si fosse ragionato in termini di prudenza, queste cose, che vuol dire, l'ho detto all'inizio, di guardare in avanti, ci sarebbero dovute capire. Perché tu non puoi pensare che mentre il livello medio di acculturazione e di istruzione aumenta, tu non debba evidentemente cambiare anche il modello organizzativo di imprese. E per essere chiudere su questo punto, prima di passare all'altro, questo vuol dire trovare il rimedio al modello organizzativo tuttora dominante, anche se in diminuzione, che è il modello taylorista. Perché è il taylorismo che evidentemente ha tarpato le ali e ha espunto letteralmente il concetto di prudenza. Taylor ha grandi meriti. Il suo libro viene pubblicato in America nel 1911, intitolato L'organizzazione scientifica del lavoro. E ha avuto un successo dal punto di vista economico e notevole. Ford è stato alla prima impresa ad applicare il taylorismo. Taylor è quello che ha inventato la catena di montaggio, eccetera. Quindi la produttività vale. Ma perché? Perché il taylorismo nasce dentro del bel mezzo della seconda rivoluzione industriale. Ma noi oggi siamo nella quarta rivoluzione industriale. Quindi le imprese che applicano il taylorismo oggi vanno tutte, tutte, tutte a fallire. Ve lo dico io. Perché il taylorismo, voi direte, fammi capire. Ve lo dico subito. A pagina 52 del libro c'è scritto come vanno trattati i lavoratori alla catena di montaggio? Sapete cosa c'è scritto o no? Ovviamente i professori nei corsi di merceo queste cose non le dicono i miei colleghi. E chi mi conosce lo sa. Perché io anche in pubblico li offendo. Dico siete dei lazzaroni e degli irresponsabili. Perché la verità, bisogna dirla, costi quel che costi. E non invece sottacera. C'è scritto a pagina 52 che i lavoratori alla catena di montaggio vanno trattati come bovini. Testuali parole. Perché? Perché il bue, nell'ordine animale, è l'animale più docile e ha la caratteristica di obbedire e di non pensare. E taylor dice che i lavoratori non devono pensare. Perché se pensano, possono bloccare o la catena di montaggio o certi processi decisionali. Chi pensa è solo il vertice aziendale. Gli altri devono obbedire. Ora, nella stagione della seconda rivoluzione industriale, che come voi sapete inizia alla fine dell'Ottocento in Germania, la Germania è la culla della seconda rivoluzione, così come l'Inghilterra è stata la culla della prima, questo ha funzionato. Ha funzionato benissimo. Ma è ovvio che oggi non si doveva capire. E i vari docenti non l'hanno capito. E sono tanti. Pensate anche Michael Porta, eccetera. Si sono limitati a raffinare, a cambiare un po' le parole, ad addolcire, ma la sostanza è rimasta. Ecco perché gli americani che hanno partorito il taylorismo sono anche quelli che hanno radicalmente cambiato. Voi leggete il libro di Brian Robertson. Robertson è professore alla Harvard Business School, che è la prima business school del mondo. Professore notissimo. Nel 2007 ha pubblicato questo libro che ha per titolo Olocrasi. Lui ha usato la parola greca, pensate, ed è stato tradotto in italiano tre anni fa con il titolo di Olocrazia. Olocrazia è esattamente l'opposto del taylorismo. Cioè nel taylorismo pensa il vertice e gli altri obbediscono ciecamente. Nel modello olocratico, invece, tutti devono pensare. Perché Olos vuol dire tutti. Tutti devono pensare. Tutti devono contribuire con lo sforzo della propria inventività a far progredire il destino dell'impresa, eccetera. Ora, se voi guardate in Italia, noi abbiamo fatto un'indagine. La gran parte delle imprese italiane o delle organizzazioni sono ancora di tipo taylorista. E il guaio è che il taylorismo non si è limitato alle fabbriche, alle imprese in senso stretto, ma è entrato nelle università. Le nostre università sono tayloriste, per quello che non va bene. Ma anche negli ospedali. i nostri ospedali, sapete, oggi si parla sempre, ma perché non si ha il coraggio di andare alla radice dei problemi? E' che il nostro ospedale è un modello taylorista. Ovviamente cambiano i termini, cambiano le parole, ma la logica di funzionamento è lo stessa, eccetera. Ecco allora, capite come oggi bisogna valorizzare la prudenza, la saggezza che ti fa vedere in avanti. Detto questo, passando all'ultima parte, nel tempo che mi è stato assegnato, che cosa occorre, che implicazioni questo ha a livello di chi, come voi mi sembra di capire dalle presentazioni che avete fatto, che implicazioni pratiche ha? Allora, la prima è la distinzione tra decidere e scegliere. Noi tendiamo a pensare che siano la stessa cosa, e invece no, perché un problema di scelta è un problema che consiste nella selezione di un'opzione tra tante disponibili, di cui però conosciamo più o meno le caratteristiche. L'esempio che faccio, a beneficio di tutti, per far capire il problema di scelta è il ristorante. Vado al ristorante, mi siedo, il cameriere mi porti il menù, io lo leggo e dico scelgo questo piatto. Perché lo posso fare? Perché più o meno conosco le caratteristiche degli altri piatti. E dici, io oggi voglio mangiare le tagliatelle e non gli spaghetti. Chiaro? Quindi per risolvere un problema di scelta basta la razionalità. Un problema si dice di decisione quando un soggetto deve selezionare una opzione, tra diverse, senza conoscere le caratteristiche delle varie opzioni. Cioè dire, l'immagine è quella dell'esploratore. Io sono l'esploratore, cammino, ad un certo punto mi trovo di fronte a un bivio. devo decidere, non scegliere. Molti dicono scegliere, ma perché sbagliano, non hanno cultura, non studiano. Devo decidere se prendere il sentiero di destra o di sinistra, ma non so dove mi porteranno quei due sentieri. Capite? Ecco allora che per risolvere un problema di decisione la razionalità non serve a niente, anzi complica. Ci vuole la saggezza, cioè la prudenza. Questo è il punto. Allora la questione è, tu sei un manager di un'impresa o di un'organizzazione. Devi sapere che con il tempo i problemi di scelta scompariranno. Sapete perché? Perché ci penseranno le intelligenze artificiali. Volete fare una scommessa con me? Fra dieci anni saranno loro a scegliere. Perché? Perché evidentemente applicano i canoni della razionalità classica, per cui seguendo quello tu trovi, dai le informazioni, i big data, i dati necessari e trovi la razionalità. Ma quello che le macchine, le intelligenze artificiali non potranno mai fare è di risolvere problemi decisionali, per la ragione che ho detto prima. Perché nel problema decisionale io non conosco i termini delle alternative. E se alla macchina non gli date i termini, quella lì non fa niente, si blocca. Capite? Ecco allora che per decidere bisogna mettere in pratica la prudenza e quindi la saggezza. Allora voi direte, ma a noi... Ah, ecco il punto. Perché d'ora in poi, nel prossimo futuro, persone come voi saranno sempre più chiamate a risolvere problemi decisionali. Non perché quelli di scelta non siano rilevanti, ma perché in qualche modo si è imparato. Pensate a chi si occupa di programmazione aziendale, tutte queste cose qui. E soprattutto pensate all'ingresso delle nuove, appunto, tecnologie del digitale, come quello che ho accennato. E quindi in qualche modo è acquisito. Il manager del prossimo futuro deve essere un leader e non un capo. Ecco il punto. Quella differenza c'è tra il capo e il leader? Il capo è uno che spinge. Il leader è uno che trascina. Il capo è uno che dà ordini. Il leader non dà ordini, ma coinvolge gli altri, i suoi collaboratori. È chiaro? Terzo, il capo è uno che evidentemente trasmette quello che gli serve senza rispettare l'azione di coinvolgimento più importante che è il far sentire importante. Cioè, nelle azioni di coinvolgimento non c'è solo il far sapere, è ovvio. Il far comprendere, è ovvio. Ma anche il far sentire. Cosa vuol dire far sentire? Vuol dire far sentire la persona con cui io collaboro, importante. Farla sentire rilevante. Io ti devo far capire che tu sei importante per me e per l'azienda. E questo voi direte perché? Perché ognuno di noi ha dentro di sé un bisogno, che è il bisogno di autorialità. Cioè, ognuno di noi ha bisogno di sentirsi autore. Autore vuol dire generatore. Non importa il livello. C'è chi si muove a livelli molto alti, altri intermedi, altri... Non importa. Però ognuno di noi togliere alle persone, anche le più umili. Questa soddisfazione di essere autori è ciò che impedisce poi la realizzazione di certi piani. Ecco, il leader è uno che ti fa sentire autore. E allora, ovviamente, se c'è da intervenire, come si diceva una volta con i bambini, una scolacciata, lo te la dà. Se c'è da riprendi, è chiaro. Però te lo fa perché tu capisci che quel rimbrotto, quel rimprovero è in funzione della tua crescita personale e spirituale, eccetera. Ecco allora il punto. Noi dobbiamo capire che se molte imprese non vanno bene, che hanno troppi capi e troppo pochi leaders. E la sforza che noi dobbiamo fare, questa è la mia ovviamente idea, quando devo parlare a persone come voi, managers, è quello di dire, voi dovete dire, noi vogliamo diventare dei leader, aiutateci a diventare dei leader. E per diventare dei leader, ormai l'avete capito, la prima cosa da fare è di mettere in pratica le virtù. E la prima di queste è appunto la prudenza, l'aurica virtù. Concretamente uno mi può chiedere a questo punto, ma perché è così importante il far sentire? Perché vedete, le skills sono di due tipi, le cognitive skills e le character skills, cioè le abilità cognitive e le abilità del carattere. E questa è colpa nostra, di noi professori, andremo all'inferno. Speriamo che poi all'ultimo momento arrivi, perché noi siamo massimamente responsabili delle cose che non vanno. E non ce ne rendiamo conto, perché noi insegnando certe cose agli studenti universitari che poi si laureano e cominciano le varie carriere, il male che facciamo. Perché? Perché noi abbiamo sempre pensato che quello che importa sono le abilità cognitive, le cognitive skills, abilità cognitive, cioè il sapere. E sapere questo e quell'altro è su e giù, la matematica, la fisica e questa, la biologia. E' chiaro che bisogna il sapere, ma nel mondo del lavoro e in particolare delle imprese, oggi sono molto più importanti le character skills, le abilità del carattere, che non le abilità come lo sapevate. Questo risulta da un'indagine empirica condotta da James Heckman, un premio Nobel dell'economia americano, molto bravo, Heckman con la H davanti, che ha per diversi anni con un team, sapete gli americani sono molto bravi in questo perché hanno tanti soldi, mettono su dei progetti di ricerca della durata di due o tre anni e che coinvolgono centinaia di persone, per accertare quello che vi ho detto. E il risultato è esattamente quello, che considerando il sistema di pesi, le abilità del carattere contano per il 60% rispetto alle abilità cognitive. Non perché, ripeto, il non sapere le discipline, le materie, ma quelli si imparano. Se hai il carattere preparato, te le impari da solo, oppure ti fai aiutare. Ma se tu hai il carattere, sapete, quando si dice carattere si fa riferimento alla costituzione spirituale e morale delle persone, se non hai il carattere preparato, tu puoi sottoporre tutti gli strumenti didattici che vuoi, ma quella persona, così come lo studente, non impara. cosa diceva Goethe, il grande Goethe, tedesco, eh? Si impara solo ciò che si ama. Allora, se voi volete che un giovane studente impari, è inutile, io parlo a me stesso, ai miei colleghi, non a voi, è inutile che io dica devi studiare, altrimenti ti boccio, altrimenti ti faccio questo. Ma siamo matti, ottieni l'effetto contrario. Tu devi insegnarti per far amare quell'argomento. Quando ci riesci, lo studente va a gonfie vele e procede da solo, senza ulteriori spinte e così via. E la stessa cosa vale nel lavoro di impresa. Inutile andare avanti a colpi di ordini o di punizioni, soprattutto oggi. Ma dico, ma fanno ridere queste cose. Perché se il collaboratore ti vuole buggerare, lo sapete meglio di me, i metodi che adopta. Fagli amare quello che sta facendo, facendogli vedere, come ho detto prima, che quello che sta facendo corrisponde alla sua fioritura umana. Quindi allora cominciate a capire oggi qual è la grande sfida che è di fronte a tutti noi. E ci vuol dire, la sfida di fare in modo che dentro il mondo delle imprese e delle organizzazioni, perché l'impresa non è solo quella che produce i bulloni da vendere sul mercato, è anche chi opera dentro l'INAIL, come l'INPS, cioè dentro le organizzazioni, è quello di operare in questa maniera. Allora, andando a concludere, io non ho l'esperienza che avete, qualcosa però ho fatto anch'io. Sono stato, ad esempio, presidente dell'Agenzia per il terzo settore, Agenzia Nazionale per il terzo settore, che aveva sede a Milano, cioè quella che controllava tutto il mondo del terzo settore, imprese sociali, cooperative sociali, volontariato, fondazioni, eccetera. e così via. Quando io sono arrivato, il livello di produttività era bassissimo, bassissimo. Il direttore, tipico burocrata, e dico, ma come mai? Tutti laureati, tutti. Ma laureati anche, come dire, di lauree qualificati. Ah, dice, ma sa com'è? Pubblica amministrazione, non ha voglia di lavorare, non si può licenziare, tutti questi discorsi. E io non ci ho creduto. Non ci ho creduto. Sapete cosa ho fatto? Ho fatto un'assemblea con tutti, ho raccontato un po' di storie, e poi ho detto, sentite, noi avremmo pensato di creare una rivista trimestrale. Adesso è stata chiusa, perché poi il governo Monti chiuse l'Agenzia, che è stato un errore gravissimo, ma questo è un altro discorso. Questa trimestrale, e voi, che noi mandiamo in giro alle università, a tutti, tutti quelli che si chiama Arete. Arete, in greco, vuol dire virtù. La parola Arete si traduce con virtù, e io l'ho voluta chiamare Arete. Voi, se volete, potete pubblicare. Però gli articoli devono avere i crismi, diciamo, della scientificità, no, delle sciocchezze. Quindi il mio direttore mi fa, ah sì, sì, faccia pure, professore, però vedrà che non faranno niente. Ah, dico, va bene, io accetto le scommesse. Voi non ci crederete. Alla fine la produttività era triplicata. Perché? Perché queste persone, di mezza età, pur di avere la soddisfazione interiore di pubblicare un saggio, che veniva letto poi anche da studenti che dovevano fare la tesi sopra, eccetera, si erano messi a studiare alla sera, a casa, al weekend. E quindi era successo che la loro produttività era aumentata. Perché se uno studia, impara, eccetera, poi quello che ha imparato lo mette a frutto nel luogo di lavoro. E quindi, alla fine, il mio direttore generale mi ha chiesto scusa, mi ha detto che io avevo vinto la scommessa. Dico, va bene, non ti farò pagare l'oggetto della scommessa. Ma è così. Quindi quando mi vengono a dire perché non lavoro, ma per forza, perché non c'è nessuno. Io non ho mica chiesto loro, mica ho dato loro punizioni a un centino. Gli ho offerto una possibilità di vedere realizzate le loro capacità. Gente che avevano tutti la laurea, molti avevano il master, addirittura alcuni il dottorato di ricerca, che venivano tenuti lì per fare un lavoro ripetitivo, noioso. Quando ho dato loro la possibilità di salire un po' più in alto, le cose sono. È solo un esempio, però voi prendetelo come testimonianza della validità di cui. Chiudo dicendo, ma noi ce la faremo a fare questo? Cioè, riusciremo noi? Ma se c'è un paese che deve riuscirci in questo, è l'Italia. Ma perché? Ma perché noi dobbiamo soltanto prendere uno straccio? Nelle case, sapete che ci sono i piumini che servono a portare via la polvere. È vero quando si fanno le pulizioni. Noi dobbiamo portare via la polvere degli ultimi, sostanzialmente, l'ultimo secolo, eccetera. E dobbiamo ritornare alle nostre origini. Dobbiamo tornare a ristudiare l'umanesimo del 1400 e il rinascimento del 1500. Ma scusate, il rinascimento e l'umanesimo, chi l'ha fatto? L'hanno fatto gli imprenditori dell'epoca. Ma lo sapete o no? L'hanno fatto loro, Leonardo da Vinci, che era un imprenditore. E come? Perché tutti dicono, è chiaro che era un genio. Siccome era un genio, sapeva far tutto lui. Beato lui. Ma era un imprenditore. Lui aveva una bottega artigianale di altissima raffinatezza. Pensate a Benedetto Cotrugli, il cui libro è stato ristampato due anni fa, che è intitolato, sta ben attente, l'arte della mercatura. Perché allora l'imprenditore si chiamava mercante. Pensate, un libro scritto nel 1500, l'arte della mercatura. E quindi voi, di fatto, con questo progetto che state portato avanti, tornate alle radici. Perché aveva capito che senza arte, arte appunto arete, arte viene da arete, cioè senza virtù, tu non innovi. Potrai continuare il tran tran, potrai, ma non fai quel balzo. E soprattutto non soddisfi il bisogno di felicità che c'è in ognuno di noi. Perché l'obiettivo è dare felicità alle persone. Io adesso non vi conosco, ma guardate che il cristianesimo è stata una cosa straordinaria. Perché molti pensano che siano solo le pratiche, ma andate al cuore del cristianesimo. Ti si chiede di praticare le virtù non come facevano gli stoici, per dire siamo bravi, ma per essere felici. Questo è il punto. Pensate all'esempio di San Francesco. San Francesco, quando si libera di tutti i suoi averi, cosa dice? Dice io mi libero di tutti quei perché voglio essere felice. Ma aveva una mentalità imprenditoriale, perché San Francesco era un imprenditore. E anche dopo la conversione la sua mentalità resta. Ecco perché il francescanesimo ha avuto un seguito enorme in tutto il mondo. Perché sono stati loro a inventare, assieme ad altri, l'economia di mercato e via discorrente. Ecco allora, in conclusione, perché sono moderatamente ottimista che queste cose avvengono. Perché la gente, soprattutto nostra gente italiana, appena togli la polvere e parli, gli si aprono gli occhi. Dici, ma noi eravamo, esatto, eravamo così. Veniamo da quella tradizione. Il punto è che qualcuno ci ha manipolato, ci ha fatto credere che, appunto, le virtù non servono a niente, che quello che importa è applicare il canone della razionalità, è importante risolvere problemi di scelta e non di decisione. Ecco allora, voi, l'augurio sincero che vi faccio, state sempre gioia e trovate il modo, in tutte maniere, per recuperare quello che è già dentro di voi. Perché la gioia di dirigere un'impresa in modo di questo tipo, ve l'assicuro, è immensa. Grazie per la vostra attenzione.